ciao a tutti con questo video voglio illustrare brevemente quanto è semplice per noi docenti ottenere la licenza premium di canva e utilizzare tutte le magie dell'intelligenza artificiale a nostra disposizione venite con me una volta entrati in canva sarà semplice in alto a destra selezionare il tondino del nostro account e raggiungere impostazioni all'interno delle impostazioni troveremo nella parte sinistra varie voci e allora all'interno della tua account sicuramente troverai per cosa utilizzi canva se hai selezionato nel momento della registrazione il tuo status di docente di insegnante bene lo troverai direttamente qui altrimenti lo dovrai modificare in base alla scelta precedentemente assunta ebbene chi è insegnante può assolutamente raggiungere fatturazione piani non perché pagheremo chissà che ma perché canva per la scuola permette attraverso questa voce di iscriverti ora gratis basterà fare un clic e leggere nel momento in cui compare la prima scheda le varie informazioni e iniziamo subito la procedura che io ovviamente non andrò a terminare perché dovete voi inserire un documento nel punto preciso io vado a inserire il mio nome il mio cognome l'ha importato direttamente dal mio account eventualmente lo posso andare a modificare attenzione se il mio account è istituzionale converrebbe fare questa procedura su un account personale tipo gmail perché poi le scuole possono cambiare il ministero le mail e noi ci ritroveremmo con nulla di fatto ragion per cui con un account personale ed inoltre andando ad inserire il vero nome il vero cognome magari coincidente in parte con l'account è preferibile dato che se il mio account in questo caso fosse eh Antonio Mascherato e ehm ecco il nome il cognome Antonio Mascherato e l'altro e quindi l'account la mail con cui mi sono registrato in canva fosse notevolmente differente beh farebbero difficoltà a riconoscermi ad ogni buon conto con una certa logica e coerenza nome cognome il nome della scuola in questo momento io inserisco a rete formazione perché è la mia scuola l'indirizzo della scuola lo posso anche omettere è facoltativo il il sito web della scuola anzi l'indirizzo ma io inserisco viale Michelangelo 177 l'ha trovato lo scelgo è importante sceglierlo il sito della scuola è facoltativo faccio un clic su continua a questo punto attenzione leggete bene si dovrà inserire qui dentro un documento ufficiale di noi insegnanti il cedolino la busta paga una nomi su carta intestata della scuola con timbro protocollo e timbro e firma del dirigente ed inserirlo all'interno di questo boxino mediante il pulsante scegli file che cosa accadrà accadrà che subito dopo sarà possibile nella parte sottostante inviare a canva l'attestazione che noi siamo davvero docenti e dopo seguendo le mail dopo qualche giorno avremo otterremo all'interno di canva la visibilità ovviamente trasmessa tutti quanti noi con il punto con notifica mail e ci accorgeremo che sarà per noi immediatamente disponibile che cosa ve lo faccio vedere immediatamente attraverso un altro mio un'altra mia finestra bene entrando all'interno di canva quando entreremo all'interno di un qualsiasi progetto noteremo che in alto a destra comparirà eccolo qui la coroncina non più gialla anche la prova canva premium non sarà più gialla e quindi noi saremo docenti premium con tutta l'intelligenza artificiale a nostra disposizione questo è tutto e spero di ritrovarvi con l'account premium ciao